Teatro a Nova Milanese, l'anteprima delle verità di Bakersfield con Marina Massironi e Roberto Citran, ce ne parla Laura Lungo. Come nella miglior tradizione americana, la compagnia teatrale assaggia il gusto del pubblico in provincia, poi parte la vera e propria tournée. In gergo tecnico si chiamano residenze artistiche e così gli spettatori del teatro comunale di Nova Milanese hanno potuto assistere a un'anteprima nazionale. Le verità di Bakersfield e Stephen Sachs, in scena due big del palcoscenico, Marina Massironi e Roberto Citran. Per noi è importante incontrare diversi pubblici, che siano pubblici delle grandi città, dei piccoli centri o della provincia, e tutto il pubblico. Due storie e le antipodi, destini che si incrociano sullo sfondo, un quadro di Pollock. Sono una ex barista e trovo da un rigattiere un quadro che secondo me è un Pollock, un vero Pollock. Quindi chiamo un gallerista new yorkese. È un critico d'arte piuttosto altezzoso, un po' con la puzza sotto il naso, che malvolentieri va a verificare l'autentità di questo quadro. Incontra questa persona che è distante mille e miglia da lui, con un carattere completamente diverso. In Lara con lo spettacolo, un po' alla volta anche lui comincia a cambiare opinione su di lei, soprattutto, e comincia a vedere che in lei c'è qualcosa che a lui manca. Buona l'anteprima, la tournée può partire. Il 28 ottobre è ancora una data in Lombardia, l'auditorium comunale dirò.